Il Bersaglio è abbattuto! Uno in meno! Fuoco nemico! Nemico a Carran! La forza del nemico è diretta! Un obiettivo è caduto in mano ai russi! Un obiettivo è caduto in mano ai russi! Un controllo della maggior parte dei settori! Oh, merda! Sparano! Chiero le difese! Le forza! Ottimo lavoro di Spar! Battaglia incredibile! Il Bersaglio è un episodio che ero infatti! Ma cosa è ancora un episodio che era subito? Ma volta con uno! È un'eshertica per fare del D.